Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi disegneremo un volto di fanciulla idealizzato con una farfalla. Inizieremo con impostare il volto con una matita. Disegnerò il contorno del volto con l'occhio, il naso e la bocca ed un accenno di collo per poi passare alla farfalla. Dopo aver impostato il disegno nel suo insieme elaboreremo il corpo della farfalla e riprenderemo poi in un secondo momento i particolari del volto. Sotto al video troverete il link dei materiali che sto utilizzando per il disegno. Inoltre troverete anche il link dove si trovano tanti tutorial gratuiti per imparare a disegnare. Dopo aver impostato il disegno passeremo alla bocca mettendola in evidenza con un bel rosso. Successivamente riprenderemo il disegno con un marker dalla punta 07 per mettere in in evidenza la figura. Dopo aver completato i dettagli delle ali della farfalla per rendere il disegno meno piatto aggiungerò dell'ombra. Come strumento grafico utilizzerò la matita sfumando leggermente le ali della farfalla ed infine sotto al collo per mettere in risalto il volto. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale se il disegno vi è piaciuto lasciate un bel like. Al prossimo tutorial un bacio grandissimo